Yuri Tofanin, l'educatore in mare aperto, ovvero il curioso caso del pirata Long John Silver. Il pirata Long John Silver di primo acchito a tutto potrebbe far pensare, tranne che è una figura educativa di riferimento, un modello inteso in senso positivo, anche solo vagamente. È davvero pensabile quindi che si possa designare un soggetto moralmente discutibile come un bucaniere a individuo capace di educare? Possiamo fidarci dell'idea che sia un personaggio, seppur di fantasia, assurdo al ruolo di gentiluomo di ventura e nemico dell'umanità per antonomasia, a poter vantare doti di pedagogo e accampare competenze istruttive e indole genitoriale vicaria? La qui presente risposta è sì.